Mamma, non mamma. Mamma, non mamma. Mamma! Mentre la televisione ha il diavolo della velocità e del consumo immediato, il teatro possiede quei ritmi lenti che aiutano i pensieri, anzi, i ripensamenti. Si possono raccontare in modo diverso l'esistenza delle donne vittime di femminicidio? E se le vittime potessero parlare, se le voci delle vittime, delle donne assassinate proprio in quanto donne, per mano di uomini, dei loro uomini, li potessimo ancora sentire, cosa ci direbbero? Sono morte annunciate, che tutto il vicinato aveva previsto, ma... nessuno ha mosso un dito. Perché ognuno a casa sua fa come gli pare, casi giudiziari che vengono liquidati come inevitabili conseguenze di improvvisi raptus di follia. E invece sono la coerente conclusione di violenze durate a volte un'intera vita. Solo sentenze eseguite davanti agli occhi di una società incapace di riconoscere questo dramma antico. Una platea incapace di indignarsi. Una platea che vive queste storie trasformate in telenovelas, nei programmi di approfondimento giornalistico. In tv è sempre pronta una schiera di esperti del settore, pronta a rivelare ogni dettaglio della scena del delitto, con tanto di rivelazione in esclusiva sui risultati dell'autopsia. Una lista ricca di particolari che svelano cosa ha mangiato la vittima la sera prima del fattaccio o che biancheria intima indossava. E così vengono sacrificate una seconda volta. Uccise sull'altare dell'audience. In questo paradiso popolato da mogli, ex mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex fidanzate, che non sono state ai patti, che sono uscite dal solco delle regole assegnate dalla società, come ci racconterebbero questa disobbedienza? che a loro è stata fatale. in quale si ricevono queste trader sapete. In questo MC in quale i книlli non ci sono stati superi, Avevamo il mostro in casa E non ce ne siamo accorti Lui Vendeva stoffe al mercato E aveva gli occhi di gatto Il problema è che poi l'ho superato Ho cominciato a guadagnare più di lui Due coltellate e mezzo Per ogni anno della mia breve vita Neanche per una ragazza Nata e cresciuta a New York È facile essere libera Ho sentito uno sparo E poi Buio Ho modificato il mio profilo su Facebook Situazione sentimentale Single E proprio in un'alba chiara Hanno deciso Che mi dovevano domare E tu mi hai buttato dalla finestra Non me l'aspettavo L'aveva detto a tutti che l'avrebbe fatto E l'ha Fatto Ora Siamo diventato un esercito di lucciole Piccole stelle Che volano nel cielo Siamo diventato un esercito di lucciole Ciao a tutti Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. L'ha detto anche la mamma agli inquirenti. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Era lì che fumava, vicino al caminetto e non ce ne siamo accorti. Avevamo il mostro proprio in casa e non ce ne siamo accorti. Neanche mio marito se ne era accorto. Dico, lui che aveva proprio il mostro dentro non se ne era accorto. Neanche quando mi ha messo in cinta se ne è accorto. Io sì, mi sono venuti subito a noi i broccoli. Inutile buttare soldi per il test. Il broccolo è un segnale infallibile. Mio figlio mi è rimasto in pancia sette mesi e non è più nato. Sono morta prima. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. L'ha detto anche mia sorella. Non ci andava d'accordo con mio marito. Questione di caratteri. Una volta che mio marito l'ha strattonata ha incominciato a strillare come un'aquila. Ma che ti strilli? Vuoi farti sentire da tutti i vicini? E che vuoi che sia uno spintone? E allora io? Quando mi ha tirato la sedia in testa che avrei dovuto dire? Sono sfoghi così? Del momento? Si sa? Gli uomini hanno queste punte di carattere. La sedia è volata perché non avevo tolto la cipolla dal sugo. Non la digerisce e poi sta male. dopo la botta che ho preso però la cipolla non l'ho più messa da nessuna parte. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Neanche il brigadiere mi ha vista il mese scorso in fila alle poste con la faccia viola di pugno e mi ha detto che ti sei fatta Teresa? Io beh sì ho detto che ero caduta dalle scale della cantinetta e lui mi ha guardata e ha sorriso. Io ho provato a non farlo arrabbiare ma la mattina mentre pulivo i broccoli ho capito lui non voleva altri figli da me e aveva ragione dove lo mettevamo un altro ragazzino? Al settimo mese ormai la pancia si vedeva siamo andati in gita una scampagnata e lui ha preso una latta di benzina dal garage quando mi è dato fuoco non ho sentito quasi nulla mio figlio l'avrei chiamato Vito come il nonno lui vendeva stoffe al mercato e aveva gli occhi di gatto ma io ero già sposata con Mamed che aveva 40 anni in più di me ma Mamed l'ho incontrato la prima volta il giorno del nostro matrimonio ho pensato almeno questo vecchio non ha i baffi mia cugina è stata più sfortunata il suo aveva pure la barba mia madre l'hanno sposata ha 13 anni lei mi ha detto segui il tuo destino come una spiga al vento e vedrai che la vita passa presto come in un soffio ma lui aveva gli occhi di gatto e all'improvviso il vento si è fermato il mio cuore ha iniziato a battere forte ci siamo innamorati dell'amore quello vero tutte mi chiedono com'è morire sotto una pioggia di pietre il contrario esatto dell'amore il cuore si ferma e diventa tutto buio ma la cosa che veramente mi ha ferito di più è stato l'applauso finale di tutti gli uomini del paese forse volevano il bis c'erano pure mio padre e mio fratello da applaudire tutte mi chiedono com'è morire sotto una pioggia di pietre anche sotto tutte le pietre del deserto nessuno potrà togliermi il mio amore dagli occhi di gatto è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che una donna manager entra in un consiglio di amministrazione ma io ce l'ho fatta questa piega amara sulla fronte prima non ce l'avevo ma che volete ogni cosa al suo prezzo e se hai soldi per pagarti un po' di bottolino si vede molto meno io appartengo alla generazione di donne che ha rinunciato ai figli per la carriera non me ne pento ho coltivato delle amicizie meravigliose poi tanto ci sono gli uomini che ti scaldano il cuore io ho sposato un collega è bello lavorare spalla a spalla stessi ipad stessi orari stesso stress stessi iphone o blackberry c'è sempre qualcuno che preferisce il blackberry stessi viaggi di lavoro freccia rossa wifi stesse viplonge stessi stipendi ecco finché sono stati gli stessi è andato tutto bene io ci ho messo un po' a raggiungerlo si sa a pari curriculum noi donne siamo considerate meno spendibili meno autorevoli dobbiamo essere tre volte più brave per ottenere lo stesso risultato ma io ce l'ho fatta il problema è che poi l'ho superato ho cominciato a guadagnare più di lui non l'ho fatto apposta subito non gliel'ho detto non so perché ma dentro di me mi sentivo in colpa come se superarlo economicamente fosse un affronto alla sua virilità avevo paura di umiliarlo ma il mondo era cambiato dai tempi di mio padre lui non ha mai fatto lavorare la mamma a lei invece sarebbe piaciuto tanto ho fatto outing offrendogli un weekend 5 stelle a Parigi da lì sono iniziati i guai lentamente sottilmente un veleno si è infiltrato nel nostro rapporto io non ero più così simpatica né tanto intelligente come prima anzi ogni motivo era buono per assestare un colpetto alla mia autostima ha cominciato a colpirmi prima in privato poi in pubblico davanti ad amici e colleghi un risentimento un risentimento sorto un sarcasmo feroce una critica impietosa e continua non andava mai bene quello che facevo era diventato un match senza esclusione di colpi anzi un colpo dietro l'altro fino a quello definitivo un portacenere di marmo tirato in piena fronte una sera di marzo ero ancora viva poteva salvarmi invece mi guardava con stupore immobile io respiravo fatica finalmente debole e arrendevole mi aveva messo a terra non voleva farlo ma non aveva più argomenti per spiegarmi la sua inadeguatezza ero cresciuta troppo per lui non ce la faceva a starmi al passo non riusciva più a reggere il confronto si sentiva inferiore e non aveva altra scelta che ricorrere alla forza fisica in quella era ancora superiore a me almeno ha vinto l'ultima partita a a a a a a a a Grazie a tutti. Si chiamano edicole, ma non vendono i giornali. A Napoli ce ne sono a ogni angolo di strada. Sono dei piccoli altari all'aperto e luoghi sacrifai da te. Servono per celebrare i santi protettori e i morti del quartiere. Ci sono le offerte, le preghiere, i fiori, i ceri e gli ex voto. È sicuro che al morto piace di più rimanere nelle vicinanze di casa, dove è vissuto in compagnia degli amici e insieme ai parenti. Le foto sono più belle che sulla lapide. La mia è veramente uno splendore. È la più grande di tutte. Pensate, si fermano tutti a guardarla. È la più grande. Il titolo sul giornale, invece, non era tanto grande. Ragazza 66enne uccisa da 25 coltellate. No! 25 anni, 66 coltellate. Ragazza 25enne uccisa da 66 coltellate. Due coltellate e mezzo per ogni anno della mia breve vita. 20 dritte al cuore. Ci vuole tempo per dare tutte quelle coltellate. Pensate a quanto è lungo un minuto. Ce ne vogliono tre. Senza fermarsi mai. E lui non si è fermato neanche per riprendere fiato. Ci aveva già provato l'anno prima. È tornato a casa di corsa e mi ha dato quattro fendenti al collo. Ma qualcuno l'ha fermato. Sono stata dieci giorni in coma. Poi ce l'ho fatta. L'hanno mandato ai domiciliari perché dicevano che era stato un raptus. E un raptus non viene due volte. E invece hai visto che sorpresa, caro giudice. Ma io insieme a lui non ci sono tornata. E lui l'ha capito. Che non avevo più paura. E non ci tornerò. Mai più. Scegliere la scarpa giusta per correre è una faccenda molto seria. Diffidate di chi insinua che una vale l'altra. Dicono che se hai voglia di muoverti non c'è bisogno di fare tanto i perfezionisti. Ma evidentemente non sono dei veri appassionati. Io ho sempre amato correre. Luogo ideale? Un parco la mattina presto. Parco ideale? Central Park. Ovvero il centro del mondo. Con tanto di scogliattoli. Che vuoi di più della vita? L'abbigliamento sportivo può essere stravagante e personalizzato. Una mia amica corre con una tuta di pile color orso bruno. E commenta di muoversi meglio. Ma sulle scarpe anche lei non transige. Le migliori per noi sono l'ultimo modello delle Casper. Le K2. Quelle che sotto al tallone hanno un nuovo sistema rivoluzionario di ammortizzatori. Che grazie a una serie di spazi sotto vuoto nella zona tallone scarica gli sforzi. E ti sembra di volare. Le indossavo nuove di zecca. Quella mattina di febbraio. L'erba era gelata. E in alcuni tratti in ombra l'asfalto era ricoperto da sottili lastre di ghiaccio. Ma le mie Casper avevano le ali e superavano ogni difficoltà con leggerezza. Dal fiume tirava un vento gelido. Io ero coperta bene. Pantacolla antinfibra, maglia termica, cuffia imbottita con auricolari. E una musica calda che scioglieva i pensieri. Se mi avessero chiesto cos'è per te la libertà, avrei risposto questa gelida mattinata di febbraio. Certo, avere 16 anni aiuta, ma bisogna anche saper cogliere il momento, fare lo sforzo, allungare lo sguardo e godere l'attimo fuggente. Mentre con la coda dell'occhio non bisogna perdere lo scogliattolo che ti insegue da platano a platano. Sembrava come nei cartoni animati di Walt Disney. Ma forse mi aspettava da sempre. Dietro i cespugli, nascosto tra gli alberi, ha fatto fuggire i miei scogliattoli. Mi ha braccata, raggiunta, buttata a terra, bloccato le mani e i polsi. Mi ha tappato la bocca, lui era dappertutto. Ho cercato di urlare e scalciare con le mie casper K2. Ma non c'è stato niente da fare. Alla fine. Mi ha spaccato la testa, ho chiuso gli occhi per sempre. Neanche a Central Park, neanche per una ragazza nata e cresciuta a New York, è facile essere libera. Peccato. Era una mattinata perfetta. Grazie a tutti. L'aveva detto a tutti. A mia madre, a mia suocera, ai carabinieri, ai colleghi di lavoro. Quando dico tutti, è tutti. L'aveva detto anche ai vicini di casa, agli amici del bar, al postino, agli imbianchini. Lo sapevano proprio tutti che mi avrebbe ammazzata. E infatti, quando l'ha fatto non si è meravigliato nessuno. Già lo sapevano. Sui giornali hanno scritto un raptus improvviso di follia. Ma quando mai? Erano anni che lo gridava i 420. A me è sembrata una morte bella, chiara e risaputa. La chiamano l'Italia dei misteri. Invece, quando sono morta io, l'hanno capito subito tutti che mi aveva ammazzata mio marito. E certo, l'aveva detto a tutti che l'avrebbe fatto. E l'ha fatto. Una sola cosa non mi torna. Ma se lo sapevano tutti, perché gliel'hanno lasciato fare? E io perché gliel'ho lasciato fare? Allora, diciamocelo subito. Di donne stronze è pieno il mondo. E io sono una di quelle. Appartenere al genere femminile non ti assicura lascia passare per la bontà. Non guardo in faccia a nessuno. Cerco il mio piacere, il mio interesse e il mio tornaconto. Sono furba, smart, intraprendente. Non mi fregate con due cenette e un regalino. Io ho studiato, lavoro e appena posso divento uno squalo. Non a caso siamo noi il 60% dei laureati in questo paese. Io non mi impegno mai. Se ti lasci andare, il tipo si mette subito a cucinare per te e vuole a tutti i costi montarti la libreria di Ikea. L'importante è fare patti chiari fin dall'inizio. Anzi, meglio ancora non arrivarci proprio ai patti e andarsene prima. Ma tu non ti sei rassegnato. Insistevi, facevi le poste davanti a casa con dei patetici mazzi di gerbere. Io odio le gerbere e te le ho sbattute in faccia. Ma tu non ti sei arreso. Mettevi bigliettini sulla macchina, mi aspettavi sotto l'ufficio, mi seguivi dal parrucchiere. Sei entrato di nascosto in casa mia. ma io te l'ho detto chiaro e tondo. Sei un poveraccio. Io non ho bisogno di te. E tu mi hai buttata dalla finestra. non me l'aspettavo. Per quanto stronza mi hai fregato lo stesso. Io non sono d'accordo. Ci sono milioni di uomini che amano veramente le donne. Sono tanti. Sono meravigliosi. Sono gentili. Sto parlando dei ragazzi che ti fanno sentire regina e principessa. Che gli piaci proprio come sei e non cercano un'altra dentro di te. Sono compagni di viaggio, amici, teneri amanti come Luigi, il mio bellissimo amore. Ma mio papà non l'ha mai voluto. Mio padre a modo suo mi voleva bene e anche mio fratello. Ma mi hanno dovuto sgozzare perché non sentivo ragioni. io sono Amina la sposa cadavere. Con Luigi ci stavamo sposando di nascosto ma qualcuno ha fatto la spiata e all'alba mi hanno giustiziato. Poi mi hanno seppellito in giardino sotto il melograno. Mamma non ha voluto guardare. Luigi il mio giovane meccanico con l'officina improprio. Così scrissero i giornali che mi aveva insegnato tutte le canzoni di Vasco e le un'alba chiara hanno deciso che mi dovevano domare ma io sono sempre stata una cavalla pazza e ho resistito fino alla fine. Io ero stata già promessa a qualcun altro. Per me era prevista un'altra storia che non si poteva cancellare e che veniva da tanto lontano da dove vivono ancora i mie nonni. gliel'avevo chiesto mamma posso scrivermi un'altra storia? Voglio decidere da me come vestirmi voglio quelli sbracciati colorati voglio decidere da me chi amare voglio decidere da me con chi vivere voglio decidere da me e andare a fare il viaggio in motocicletta che voleva Luigi fino a caponord per scoprire tutte le notti bianche bianche proprio come l'alba chiara di vasco e invece mi è rimasto solo l'arancione del melograno che fiorisce a ogni primavera e fa frutti succosi ricchi di semi rossi come il mio sangue l'anima 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 Grazie a tutti You and me L'abbonamento ideale per chi non può fare a meno di mandarti più di 100 sms al giorno E lui ne mandava anche di più Non vadava a spese il mio tesoro Stava sempre su Facebook, una fissa C'aveva pure Twitter Ma come gli piaceva Facebook, neanche il Milan lo prendeva così Stava sempre a modificare le foto, ad aggiungerne, ad accettare amici Buongiorno Zuccherino, sei nel mio cuore Baci, baci e ancora baci Mi stai pensando? Mi faceva regali Forsetti, piantine, ciondoli, gattini Non sapevo più dove metterli Si ricordava compleanni Onomastici E anniversari Mi accompagnava Ovunque Sempre E comunque Poi Ho cominciato a staccare il telefono Solo per qualche ora Tesoro non riesco a vivere senza te Amore, rispondimi Ti prego, passerotto, lo sai che ti amo Fatti sentire La mia vita era cambiata Non riuscivo a stare un attimo da sola Dopo un anno ero esausta L'ho lasciato Per pensare Per respirare Per leggere Per vivere Io avevo solo due amiche Ma molto care E non ci vedevamo sulla rete Ma al bar Loro, le mie amiche Ci avevano provato a dirmelo Che non era un uomo adatto a me Ma esiste un uomo adatto? Più che altro Ci si adatta Mi scriveva in continuazione Dai, cucciola Non può finire così Dove sei? Perché mi eviti? Mi rispondi Rispondi, cazzo Se l'ha presa E' diventato un altro Aggressivo Violento Non mi spuggi, stronza Che ti credi? Io mi ammazzo se non ti posso avere Ma prima Ammazzo te Volevo andare dai carabinieri Poi però Tornava tenero Non volevo ricominciare Eh già Questi social network Sono molto impegnativi Bisogna rispondere alle richieste di amicizia Ai messaggi Taggare Condividere Un gran lavoro Un gran lavoro Sul mio profilo era scritto Situazione sentimentale Fidanzata ufficialmente Io a dire il vero Ho trovato il mio profilo su Facebook Situazione sentimentale Single Finalmente l'ha capito Mi minacciava Ho cambiato Quattro schede del telefonino Mi trovava sempre Non volevo denunciarlo Non volevo denunciarlo Per colpa mia Stava già tanto male Poveraccio E lui mi scriveva E io Avevo paura Poi però Avevo pietà di lui Come negargli Un semplice appuntamento È stato lì Che non ci ha visto più Gli è sembrato Troppo umiliante E sarei lasciato così Su Facebook Mi ha tirato Una coltellata al cuore Cadendo L'ho guardato Finalmente negli occhi Erano verdi Non me li ricordavo Ho ceduto E l'ho incontrato Mi ha guardato E ha detto Sono felice Che hai accettato Di vedermi Grazie amore Non te ne pentirai E poi Buio No te ne pentirai No te ne pentirai Mi potevo chiamare Chiamila Chitra Durga Agnù Già Potevo essere Una bellezza combattente Preziosa Come la giada Se solo fossi nata Ma non ce l'ho fatta Chiariamo subito Una faccenda spinosa I miei genitori Sono contro L'aborto Lo sono sempre stati Guai a parlarne A meno che Non si tratti Di arginare Il pericoloso eccesso Di figlie femmine È comprensibile Chi se la senti Di allevare una ragazzina Con quello che costa Tra dote Matrimonio Corredo Se ne va via una fortuna La scienza Ha fatto proprio passi Da gigante Prima Era una barbarie Ci facevano nascere E poi ci buttavano Nel fiume Chiuse nei sacchi Come gattini O ci soffocavano Con i sari Che avremmo dovuto indossare Ora no Con la civiltà È tutta un'altra cosa C'è questo apparecchio Meraviglioso Che ti fa sentire Il battito del bambino Quando ancora È nella pancia Della mamma Tutum 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 Puoi vedere Il cuoricino E contare anche Le dita Delle mani E dei piedi Appare tutto Proprio come In una fotografia E già Si riconosce Il visetto Tanto che in famiglia Azzardano Delle somiglianze È tutto suo nonno No È proprio come Lo zio Poi Il dottore disse Mi dispiace Ma si tratta Di una bambina Ne è sicuro Dottore Certo Si vede benissimo No Perché a me Sembrava di vedere Quello che vede lei È il cordone Ombilicale Ah Perché mi dicono Che a volte L'affarino Si nasconde Tra le gambette È una femmina Glielo assicuro Non sorride più nessuno Adesso E io Non assomiglio più A nessuno Si torna a casa Senza dire una parola Perché tanto È già tutto deciso Qualcuno Ha già fissato L'appuntamento La decisione È presa All'appello Nel mondo Mancano all'incirca Cento milioni Di femmine Femmina più Femmina meno Ora Siamo diventate Un esercito Di lucciole Piccole stelle Che volano Nel cielo Cerchiamo L'isola Che non c'è L'isola Delle bambine Che non ci saranno Mai Che peccato Non essere nata Mi chiamo Valentina E credo nell'amore Ho dieci anni Sono caruccia E mi piace la riccissima Candy Candy A scuola ci vado sempre tutta giusta Poi magari mi sporco il grembiule Perché le pizzette A scuola mia Sono sempre estremamente farcite Allora La bidella Gina Mi dice Bella Non te preoccupa Che poi se lava La pizzetta Quella In quanto tale È carica di farciume Bisogna Stasso l'attento E ammozzicare Mi Mi chiamo Giorgio Ho dodici anni E Alle ragazze Ancora non ci penso Beh anche perché L'ormone a palla E puzzo talmente tanto Che l'odore Dà fastidio al cane E con E con i miei amici E ci divertiamo A spararci per finta E con le pistole Giocattolo E ammenarci E facciamo gli indiani Messicani E rambo e zorro E pa 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 Poi Mio padre Mi dà i due soliti ceffoni E Vado a letto Mi chiamo Valentina E credo nell'amore Ho sedici anni E a una festa Ho incontrato uno Che è un incrocio Fra Simon Le Bon E l'operaio Che ha fatto il controsopito A casa mia Mi piace un sacco Ciao Piacere Mi chiamo Giorgio Valentina Ammazza quanto sei Caruccia Ma perché ti sei messo Tutto sto profumo Perché Si sente E beh Perché Perché io Tramite il mio profumo Vorrei comunicare Che sono Che sono un uomo Che non deve chiedere mai Cioè Quindi Di uscire Te lo devo chiedere io Sarebbe meglio Andiamo bene Mi chiamo Valentina E credo nell'amore Con Giorgio Ci siamo fidanzati Mamma mia Quanto è bello Insomma Sono meglio io Però Mi piace Il suo carattere introverso Il suo modo di fare Mi piace Amore Amore Ed è pure uno Che ne sa di cose Ti piace E quanto ti piace Io sono un mandingo africano Mentre tu sei La mia gescia A parte i suoi evidenti problemi Di orientamento geografico A me piace Tanto stare con Giorgio E stare insieme a lui È figo È figo È divertente Oddio Non è il tipo Che ti regala I fiori e l'anello No Quello no Per i miei 18 anni Mi ha fatto l'abbonamento Allo stadio Però È tenero Una volta ho provato addirittura A dedicarmi una poesia Scritta da lui Se ti bacio Divento paonazzo Mi sudano le mani Divento pazzo Ma proprio per questo È il mio sollazzo E quindi amore Ecco amore Va bene così Bella? Sì Te ne scrivo un'altra No Mi chiamo Valentina E credo nell'amore Mi ha chiesto di sposarlo A un momento Casco dalla sedia Fin da piccola Vedevo quelle belle Storie d'amore E mi emozionavo Sono fatta così Mi sento Come Giulia Roberts L'abito bianco Con il velo Gli anelli Con i nostri nomi Il viaggio di nozze Amore Amore Sposarsi È un passo obbligatorio Una cosa che devi fare Ma che ti partono Anche un sacco di soldi E devi invitare a pranzo Gente che neanche conosci E quelli che cantano Col coro di mia madre E i dodici Die zittelle Della Calabria Ercaciolla Ercaciolla Che pesa Centottanta chili E mi occupa Tre posti E ma che fai Io non lo inviti Ercaciolla Mi chiamo Valentina E credo nell'amore Però la vita di coppia Me la immaginavo meglio Cioè Lui mi vuole tanto bene Però È sempre più geloso Se mi arriva un messaggio Mi prende il telefono E vuole sapere di chi è Per carità Se è geloso Vuol dire che ci tiene a me E a me fa piacere E a me fa piacere Però Che ne so Mi sembra tutto Un po' troppo Ora quella Si è messa in testa Di lavorare Ma che bisogno c'è A lavorare Ci vado io Sta tutto il giorno Fuori casa Ma mica io Mi sono sposato Una ballerina A me di fare la commessa Mi piace Al negozio Con le ragazze Ci ammazziamo Dalle risate L'altro giorno Ho perso tempo Con una cliente grassa Che non le stava niente Ma era troppo simpatica Poi Ho scoperto Che era la sorella Del cacciolla E pesava quanto Il cacciolla Alla fine Com'è Come non è Sono tornata a casa Alle nove Oh Ma lo sai Chi ori sono Lo sai che sono le nove E devo uscire Appena aperto la porta Le ho tirato Un bel ceffone Boom Dritto in faccia Te la devi far passare La voglia di fare La spiritosa Di fare come ti pare Mi chiamo Valentina E credo nell'amore Era nervoso Ma è il carattere suo Me la sono cercata È solo colpa mia Comunque Mi ha chiesto scusa Mi ha regalato Un mazzo di rose E mi ha giurato Che non lo rifarà più Certo che Con quelle manone Ogni volta Mi fa vedere le stelle Comunque il lavoro adesso L'ho lasciato Così Così non si dispiace Tu forse Non hai ancora capito Che sei mia Sei mia E devi fare Quello che dico io È meglio che te lo metti Bene in testa Altrimenti non so Come va a finire qui Mio marito Mi mette le mani addosso Abitualmente Se mi trucco bene È un cefone Se mi vesto bene È un cefone Anche se lo faccio per lui La mattina Spero solo Che non si svegli Storto Se no La sera Sono dolori Non me l'ero Immaginato così Mi chiamo Nemmeno me lo ricordo più Come mi chiamo La stronza La stronza Un giorno È andata Dalle guardie Dice Che la meno Dice Che le faccio addirittura La violenza psicologica Ma i lividi e bozzi Se le hai fatti da sola È lei Che sta in torto È lei Che mi ha ingannato Io pensavo di sposare Una brava ragazza Non una che c'è grilli Per la testa Non è colpa tua Così mi hanno detto Non è colpa tua Mi hanno detto così Te la sei cercata Non è colpa mia Quando torniamo a casa Te lo faccio capire a calci Non è colpa mia Dove sei eh? Dove sei? Dove cazzo sei? Io forse ho sbagliato A sognare Candy Candy E Julia Roberts Ma non ho sbagliato Quel giorno Ad andarmene via Amo? 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 Non è colpa mia Mi chiamo Valentina E credo Nell'amore Amo? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.